Paura levada, frazione di Piombino Dese, dove una donna di 80 anni è caduta dalla finestra di casa ma si è salvata. L'anziana, che ora si trova ricoverata in gravi condizioni, si è raffacciata alla finestra di casa ma è scivolata, precipitando nel cortile. A dare l'allarme i vicini che hanno assistito all'incidente, i sanitari del SUEM 118, accorsi immediatamente sul posto, hanno trasportato subito l'anziana in ospedale a Campo San Piero, dove è ricoverata. Giunta in gravi condizioni, ora non è in pericolo di vita, a salvarla il fatto di essere caduta dal primo piano e quindi da un'altezza tutto sommato ridotta.